Amici Trevi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di lunedì che vedremo in qualche modo l'arrivo dell'autunno sull'Italia con aria più fredda che dai quadranti orientali dell'Europa si spinge verso il Mediterraneo centrale e l'Italia. Inoltre guardate queste macchie azzure, torna anche molta variabilità per il momento nelle regioni centro-meridionali. Controlliamo la nuvolosità attesa sull'Italia, in effetti vedete queste nuvele che si muovono verso il sud Italia e porteranno piano piano delle piogge diciamo al centro-sud, anche al nord a nuvolosità di passaggio ma per il momento senza grandi effetti. Le precipitazioni infatti tenderanno a concentrarsi per il momento sulle regioni centro-meridionali partono dal medio Adriatico ma poi raggiungono anche il medio Tirreno e il sud ma non sono piogge particolarmente diffuse e insistenti, spesso solo acquazzoni di breve durata. Quindi in definitiva ci attendono i di molto variabili diciamo al centro-sud, nuvole che vanno e vengono con qualche pioggia, qualche acquazzone, dal pomeriggio pioggia in arrivo anche sulla Sardegna. Al nord invece non mancheranno anche delle belle aperture, solo un po' di nuvolosità ma senza conseguenze come dicevamo ma attenzione in tutta Italia temperature che iniziano a perdere diversi gradi, al nord per il momento andiamo oltre i 20, al centro-sud non oltre i 25. Per sapere nel dettaglio cosa capiterà proprio da voi consultate l'app gratuita di Trebi Meteo.